Musica Lo conoscevi già? Sottotitrax, bentornati al nuovo video Benvenuti in questo nuovissimo episodio di Bike Ops Io sono Franky, se non l'avevo dentro di capito Ehm Raga, eravamo rimasti Che episodio è questo? Ah, il sesto, mi pare Quindi facciamo Campagna Riprendi Cos'è ci riprendi da dove l'hanno lasciato? Ci ha fatto saltare Sessantotitrax Uh Beh, sono bene Ok Wow Mire raga, gli elicotteri degli anni 70 Bellissimo Andiamo Oddio Attenzione Vabbè E non siamo bene raga Non siamo bene Eh Vabbè 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 mi stavo quasi sparando salve ragazzi benvenuti all'inferno ma scusa col 5 mangiagranata ok di uccidere i civili avete collaborato con gli americani e questo prova la vostra colpevolezza secondo le tradizioni del partito ma sto temuto raga lo spasso 12 ricevuto lima niner camera blindata è lì davanti nice regà camera blindata è laggiù allora facciamo una cosa su 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 oddio raga quando non giochi spesso bene che bello lo spasso raga con quelle cose incendiari troppo fuori nice da qua si può passare ho visto mi rompi pezzo di merda cinese del no di etnamite veramente vabbè chi è sto qua Reznov come sei fuggito da Vorkuta non pensavo di vederti vivo e anch'io amico mio what ho con me un messaggio che il tuo governo farebbe bene ad ascoltare bene dragovic vuole attaccare l'occidente andiamo Reznov la sua influenza si estende come un cancro nemmeno il Cremlino conosce le sue vere intenzioni bisogna fermarlo ma bene nice il nostro regà che mostro che mostro eh eh lo so 3.6 per chiamare il supporto aereo benissimo what the fuck teniamo giù la testa vale quello lo voglio uccidere io headshot eccolo la perfetto se passi davanti dai dai che devo fare pure il carro un carro armato bala caldo regno ragazzi mi dovete scusare ma ultimamente sto giocando a paladins e mi confondo leggermente con i tasti guarda come è passato da sopra la testa l'elicottero dai con il supporto dell'elicottero è molto più facile qui ci sono munizioni per lo spasso vabbè andiamo ok ok vai andiamo ok what the fuck ah ok ed è il disertore era tornato per te mason presto era tornato c'è tutto intero amico mio ora vivo certo v ma dai come ci andiamo intorno ad atterraggio da qua Ottio, nice Ma non la vedo qua Dai Non sparava più sta roba Nice Doi, 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 doi Nice Mamma mia Al nuovo alleato Ehm, ok Quando qua è finito l'episodio E allora qua finisce l'episodio E come sempre ci sbacchiamo male con i nuovi video E boh, valla E come sempre ci sbacchiamo